Sì, è sull'East Coast Cosa ci dice? Cosa vuoi fare? Ok E' un'altra c'è Ok Comunque fatemi sapere nei commenti Chissà Se qualcuno sa che La visione si può verso il deserto Perché abbiamo un po' E' 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 un po' Che cosa? A part' from your mother being dead? Things are going real bad. Let me show you one thing, man. Tony's buried over there. Little devil over there. Big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Ok. Ok. I'm going to play a lot of this. I'm going to play a lot of this. We got to get back to the hood, man. It's too crazy we're out here. Grab a bike and pedal. Follow my lead. I'm going to play a little bit. 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 Now let's see. I'm going to play a little bit. But now I'm going to play a little bit. I'm going to play a little bit. il caro me li toglie no, sono caratteri però questo cosa vuole darmi? allora le vede non forse le vede le bici non ce l'hanno io non mi puoi fare sbagliare quindi da quello che ho capito è che il ballast sono i nostri nemici non sono fame si guardi non è quello più ferito oh che ce l'abbiamo fatta ah no, vabbè ho preso il checkpoint quindi va bene finché il checkpoint va bene qui non ci sono più mi sembra o non capisco niente l'inglese come le soldi ok 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 è lunghissimo ok 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 è ok ma ok ok Ok, allora passiamo a te perché ciò è con il nostro bellissimo veicolo, c'è il veicolo, bellissima bici, salviamo, si salviamo. Ovviamente ogni missione che faremo, si salviamo. Ok, c'era quando tu hai una cosa proprio, credi, se questo è un po' che si salva, quindi, questo qua, ok, me l'ha salvato. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi alla campanellina e ci vediamo alla prossima video.